Il futuro del settore orafo come quello delle eccellenze è legato soprattutto a tre fattori. Il cambio generazionale, il maestro deve avere l'opportunità e quindi gli aiuti per trasmettere la propria arte, la propria manualità e perché no anche l'innovazione tecnologica ai giovani. Aiuti all'internazionalizzazione per poter essere competitivi in campo internazionale, quindi fiscalità di vantaggio e maggiori sgravi contributivi, aiuto per l'ingresso al web perché comunque per essere in grado di vendere in tutto il mondo bisogna avere una finestra sul mondo.